C'è un'Italia straordinaria che sta affrontando la crisi. Sono donne, uomini che con coraggio e con forza ogni giorno si rimboccano le maniche per superare le difficoltà. Una pensione troppo bassa, un figlio e una nipote che non trovano un posto di lavoro o che l'hanno perso, i prezzi che crescono continuamente. Chi governa non può girare la testa dall'altra parte. I problemi vanno risolti perché voi ci avete eletto per risolverli. Oggi noi non governiamo, ma io so che un grande partito può fare il bene del proprio Paese anche stando all'opposizione. Per questo abbiamo presentato proposte concrete per aiutare chi da solo non può farcela ad aspettare la fine della crisi. Un assegno di disoccupazione per chi perde il posto di lavoro, un aiuto fiscale per i piccoli imprenditori, un aumento delle pensioni e degli stipendi più bassi. Per questo abbiamo chiesto che chi ha un reddito più alto da quello di noi parlamentari in su paghi un po' più di tasse nel 2009 per aiutare i più poveri. La maggioranza ha bocciato in Parlamento tutte le nostre proposte, ma noi insisteremo finché avremo voce. La destra e Berlusconi hanno governato il Paese per ben sei degli ultimi otto anni. È tempo che ogni cittadino rifletta sulla distanza che c'è tra le promesse fatte prima delle elezioni e quello che è avvenuto dopo. Ma vi ricordate il rilancio di Malpensa, il taglio delle tasse, l'eliminazione del bollo auto, le grandi infrastrutture, il poliziotto di quartiere? E dove sono finite tutte queste belle cose? Noi del Partito Democratico vogliamo cambiare il Paese, ma per riuscirci abbiamo bisogno del vostro aiuto. Io mi sto confrontando con un avversario che ha mille volte più potere di me, che controlla tutto, che ha i miliardi, le televisioni, ma farò questa battaglia fino in fondo semplicemente perché sento che è il mio dovere. C'è di mezzo il futuro della nostra democrazia, c'è il rischio di risvegliarsi dopo l'elezione di giugno in un Paese finito sotto un padrone assoluto. E solo un grande partito può evitare che questo accada. Le nostre madri, i nostri padri, ci hanno mostrato cosa sono l'onestà, la lealtà, cosa significa aiutarsi gli uni con gli altri. Noi abbiamo il dovere di trasmettere quei valori ai nostri figli e ai nostri nipoti. Noi dobbiamo impedire che quei valori vengano spazzati via da un mondo in cui vince soltanto l'egoismo. Se con il tuo voto ci darai più forza, le cose cambieranno presto. Non è una promessa, è un mio impegno e lo manterrò. Noi dobbiamo impedire che il tuo voto. Grazie a tutti.